La morte fa parte della vita e da ragazzi non ci si pensa. Poi arriva un'età in cui, è chiaro, non è che ho davanti mille anni, no? Da un momento all'altro potrebbe capitare. Allora bisogna viverla senza timore, senza paura. Tu in modo particolare guardi sempre i progetti anche per tenerti viva, per tenerti viva nella mente. Cosa faccio a casa? Ma appunto, ti annoi? Mi annoio, non so giocare a carte. Infatti me l'avevano detto che vecchiaia brutta che avrai, perché non sai giocare a carte. Le mie amiche giocano, no, meno Stella. Stella vende proprio. A Burraco giocano? A Burraco, giusto Burraco. Non so, io non so giocare. Io non so giocare. Non so fare la maglia dei buchi tremendi. Non so, se sono sola a cucinare, mangio un pezzo di formaggio. Insomma, preferisco, non dico lavorare come una pazza, non ce la farei più. Però lavorare, avere degli impegni, sempre bisogna inventarseli.